Proseguono i lavori nella viabilità cittadina, soprattutto per quanto riguarda i cantieri che porteranno alla progressiva eliminazione dei passaggi a livello. Uno dei punti più caldi che sta provocando anche ripercussioni sul traffico in città è la situazione del cantiere di Via Persico e il 31 dicembre il termine fissato per i lavori, scadenza che secondo l'assessore Zanibelli sarà rispettata. Assolutamente sì, salvo la perdita dei finanziamenti pubblici. Ricordiamo che il Comune, perciò i contribuenti della città, investono in questa grande opera 3 milioni di euro, ma altri 10 milioni di euro arrivano da altre fonti, perciò RFI e Regione Lombardia. Per lo stesso obiettivo dovranno partire i lavori anche in Via Brescia, ma presumibilmente si attenderà che finiscano quelli in Via Persico per non aggravare la situazione del traffico. Ecco, anche in quel caso è previsto un sottopasso. Ricordiamo che la condizione imposta era di togliere tutti i passaggi a livello sulla linea Milano-Mantova nel tratto cremonese e perciò c'è anche Via Brescia. Il progetto originale prevedeva di chiudere Via Brescia con due muri, noi abbiamo invece progettato il sottopasso. E poi c'è il discusso sovrappasso del quartiere San Felice. Zanibelli dice di avere pronta una proposta per allargare la strada che porta da qui a San Savino. Procediamo fin da subito con la realizzazione di alcune piazzole lungo questo tratto, diciamo piazzole di manovra lungo la strada, dovremmo riuscire a farne quattro piuttosto estese, che danno un'immediata risposta all'agevolazione al traffico su questa strada e soprattutto quando effettivamente si realizzerà l'allargamento di questa strada, quest'opera tornerà utile e non dovrà essere buttata via, nel senso che verrà inglobata nel progetto di allargamento generale. Situazione a parte, ma che comunque ha a che vedere con la viabilità, è la rotonda di via Mantua. I lavori dovrebbero presto concludersi. La data che immaginiamo di prevedere per l'inaugurazione perciò definitiva dell'opera è metà novembre, perciò anche lì siamo molto avanti.